Stress da mercato in Casa Avellino. Gli ultimi giorni hanno lasciato strascichi polemici, così Piero Braia all'antivigilia della gara in trasferta a Potenza. Quello che conta è vedere come finisce poi il mercato o quelli che arriveranno. A me sempre questi processi, prima che succedano le cose, onestamente li trovo un pochino. Aspettiamo, vediamo quello che farà la società. Poi il clima diventa infuocato nel momento di commentare la cessione presso chi ha parametro zero di D'Angelo alla Reggiana. Se un ragazzo vuole andare via perché vuole andare via, molto probabilmente l'unica colpa che possiamo avere tutti, va bene, è che forse dobbiamo affrontare prima il discorso. Ma finisce qui, ma finisce qui, non è una cosa che a me compete, però posso pensare. Ma è andata così, adesso che vogliamo fare? Ci ammazziamo. E l'atmosfera si surriscalda ulteriormente nel momento in cui si parla dei moduli, mentre i bianco-verdi sembrano incamminati verso l'adozione di un inedito 4-4-2. Abbiamo due moduli di riferimento che abbiamo parlato e basta, io non vi dico come si gioca, non ve lo dirò mai. Perciò finisce qui il discorso modulo, sempre sto cazzo di modulo, scusami la parola, ma il modulo è relativo. Meglio allora concentrarsi sul campo, dove è in arrivo la sfida contro il fanalino di coda del girone C, fresco di cambio in panchina con il subentro di Arleo Atrocini. S'è una partita difficile come lo sono tutte in questo girone, l'importante è non sbagliarla a noi.